Abbiamo in collaborazione con il comando regionale, poi provinciale naturalmente, poi con il comando di Cittadella della Guardia di Finanza, abbiamo deciso di trasferire la caserma della Guardia di Finanza da Borgo Vicenza dentro le mura. La Guardia di Finanza ha l'esigenza di avere un posto più ampio, avevamo a disposizione questo immobile che era stato messo all'asta negli anni precedenti ma che comunque rischiava di essere svenduto, abbiamo deciso di riutilizzarlo a favore della collettività, quindi portando all'interno delle mura la Guardia di Finanza che è anche una forza di polizia e quindi ci permetterà di controllare il territorio. L'investimento da parte del comune è un investimento di 200 mila euro. Il trasferimento probabilmente avverrà verso fine dell'anno o inizio 2017. Quindi un ringraziamento alla Guardia di Finanza che ha deciso comunque di rimanere a Cittadella e anzi di ampliare il proprio organico a Cittadella. Un ringraziamento ovviamente agli uffici comunali che hanno lavorato celermente per poter riuscire a fare velocemente questo trasferimento.